Viene da Milano e quindi nemmeno dalla nostra Camera di Commercio, quindi sicuramente sono dati che non possono essere confutati. Siamo particolarmente contenti perché è quello che io dico da tempo, adesso finalmente anche i dati statistici ci danno ragione, che anche in materia di export e quindi di prodotti anche della terra, quindi tutti made in Naples, Napoli negli ultimi mesi tra il 2015 e il 2016 è la città che cresce più di ogni altra, più 24,6, superiore alla crescita di Firenze, di Verona, di Bergamo, quindi città che economicamente rispetto a noi cinque anni fa erano un colosso. Quindi questa città sta credendo nelle sue forze, c'è una grande partecipazione dei cittadini alla vita economica anche in questo caso della città e siamo convinti di essere solamente agli inizi, però sono dati incoraggianti che stimolano i consumi, stimolano gli investimenti e soprattutto costruire una comunità in cui si vive anche in modo diverso rispetto ad altri momenti storici e ad altre zone, dove la centralità della persona assume un valore di miglioramento della vita ma anche un valore economico di un fare economia in modo diverso.